Tutti quanti noi che ci occupiamo di fotografia, video, di immagine in generale, sappiamo bene che in gran parte la buona riuscita delle nostre riprese dipende dalle luci che utilizziamo. Oggi vi faccio per l'appunto un video in cui vi parlo delle luci che ho utilizzato maggiormente nel corso del 2023. Ciao a tutti amici bentornati sul mio canale, io sono Cesare e mi occupo di fotografia ogni tanto anche di video, infatti ho un setup di tutto rispetto di cui ho già parlato in un altro video, ma oggi non parleremo del mio setup, piuttosto andremo a vedere una per una le luci che ho utilizzato quest'anno. Prima di cominciare io come sempre vi ricordo di cliccare il bottone iscriviti qui sotto, lasciare anche un like a questo video e noi possiamo partire col nostro contenuto. Cominciamo con le luci flash e il primo pezzo che vi faccio vedere è questo, si tratta del Godox AD400 Pro. È una luce flash che a me piace particolarmente, intanto perché probabilmente è la prima luce da studio un po' pro che ho comprato in vita mia. L'ho acquistata in particolare perché questa luce funziona a batteria, quindi io posso attaccare una grossa batteria qui sul retro e questa luce può essere utilizzata chiaramente indoor, ma può essere utilizzata anche all'esterno. Questa è una cosa che a me piace molto perché mi è capitato per esempio di scattare nei campi con questa luce. Io mi sono portato questa luce in un campo e ho potuto utilizzarla per bilanciare la luce ambiente e la luce del sole. È una luce abbastanza potente questa, quindi comunque mi dava l'output necessario. Diciamo che al momento è la luce flash più bella in mio possesso, quindi non la uso spesso perché utilizzo delle cose un po' meno performanti quando non ce n'è bisogno, però se devo scattare all'esterno e so che magari devo bilanciare la luce del sole o comunque mi serve un po' di potenza, so che questa qui è la luce per me. Subito dopo abbiamo questo simpatico ragazzone qui. Questa qui è la Godox SK402, qui ve la faccio vedere con lo snoot con griglia della Neewer, puramente incidentale che abbia su questo modificatore perché funziona benissimo anche senza ovviamente, anzi raramente utilizzo lo snoot, però in questo momento ce l'avevo su e volevo impressionarvi con le dimensioni. Questa qui è probabilmente la luce flash da studio che io utilizzo di più in assoluto perché è una luce che funziona con la corrente, ci sono già caricati sul canale i video recensione di entrambi questi flash, quindi ve le lascio entrambe linkate da qualche parte se volete andare a vedere nel dettaglio come si comportano, come performano. Sono luci non particolarmente costose anche se sono su fasce di prezzo molto diverse perché la D400 Pro io la pagai 1000€ se ricordo bene, adesso costa un po' di meno, mi sembra che si trovi intorno ai 600-700€ però comunque costa un bel po', mentre una di queste viene via per 150€ se ricordo bene, quindi sono su fasce di prezzo molto diverse. Devo dire per quanto riguarda queste le ho utilizzate tantissimo quest'anno e devo dire funzionano, non sono scontento, però devo dire che ho riscontrato delle pecche, in particolare queste luci ho riscontrato che hanno dei cali di potenza e delle variazioni sul colore della luce che emettono, cose che ovviamente se utilizziamo dei lampeggiatori Profoto che costano 1000-2000€ l'uno, questa cosa non succede. Se vogliamo risparmiare un pochino prendiamo qualcosina di più economico, funzionano bene, però io noto che soprattutto nei momenti di standby, quando la luce rimane in standby e poi viene riattivata, c'è un calo, un cambiamento di potenza abbastanza drastico e ci vogliono alcuni lampi prima che torni a livello e questo ovviamente è un problema nel caso stiamo facendo delle foto in serie e devono essere tutte uguali, quindi questo è un problema che mi sento di segnalare su questa particolare luce. Poi può dipendere dal mio modello in particolare, può dipendere dai pezzi in mio possesso in particolare, però ne ho quattro e tutte e quattro mi danno il problema, quindi ve lo segnalo. Un'altra luce flash di cui non potrei mai e poi mai fare a meno ovviamente è il mio speedlight. Io ho il Canon EX 430 seconda versione, uno speedlight che sta praticamente sempre nel mio zaino, funziona con quattro batterie doppia A, ha un output assolutamente decente perché ha un numero guida di 43 su ISO 100, è un flash che mi accompagna ormai da credo una decina d'anni, mai un problema, mai dovuto portare in assistenza, mai nulla di fuori posto da segnalare, un signor compagno di viaggio. Ovviamente non ha una potenza eccessiva, però nella maggior parte dei casi è più che sufficiente a rischiarare la scena quel tanto che basta da poter utilizzare un valore ISO non esagerato. Passando ora alle luci continue, vi segnalo alcune cose che non posso farvi vedere veramente perché sono in uso, per cui abbiamo un setup qui nel mio studio composto interamente da luci Godox e in particolare abbiamo le SL60, questa qui blu che proviene da dietro è una SL60 con un modificatore con davanti un foglio di gel azzurro che quindi trasforma il led bianco dei light, lo trasforma in azzurro, ne abbiamo un'altra sul retro sempre uguale però con un modificatore con un gel arancione quindi che fa quella luce arancione che vedete sul retro, a illuminare frontalmente quindi la mia luce principale è sempre Godox ma è un SL100B. Ora la versione B è diversa dalla versione normale perché questa è una luce sì daylight però ha anche la possibilità di regolare la temperatura quindi io potrei farla più calda oppure più fredda. Non lo faccio, la tengo su un grado kelvin di 5600 quindi è pura daylight, la sto usando come fosse una daylight però all'occorrenza posso cambiarla. Ora queste luci io le ho utilizzate tutto l'anno per fare i miei video, le ho usate anche per fare video corporate per clienti anche di un certo rilievo. Tra le altre cose io queste luci le ho utilizzate per dei lavori che ho fatto per TikTok Italia, in particolare per dei video corporate interni, roba loro quindi che non posso farvi vedere perché è roba interna che non uscirà mai e per fare delle fotografie a degli eventi sempre organizzati da TikTok. In particolare guardate io mi mangio le mani ancora per quella giornata lì perché avevo parlato con gli organizzatori, avevamo affittato un parco luci devastante presso un service, luci bellissime, potentissime, robe che io non ho neanche mai usato in vita mia. Solo che il giorno stesso dell'evento mi telefonano, mi dicono guarda abbiamo visto adesso lo stand con queste luci che abbiamo preso, sono troppo grosse, non ci stanno, puoi portare qualcosa tua. Allora sì va bene, con rammarico porto una delle mie, le ho portate tutte in realtà, un evento del genere non è che si può andare a mezzo servizio e poi pentirsene, le ho portate tutte, ho utilizzato, tra l'altro non ho neanche utilizzato la più potente, ho utilizzato una SL60 perché era più che sufficiente per illuminare quel set. Certo se avessi avuto tutto quello che avevamo noleggiato e che era già stato pagato avrei lavorato meglio, però queste luci sono state perfettamente in grado di farmi fare le foto per un periodo di tempo di credo un 4 barra 5 ore, quindi sono comunque delle luci che funzionano e reggono anche bene quando le fai lavorare tanto, con i modificatori giusti rendono veramente bene. Rimanendo su casa Godox prima di passare ad altro, queste qui sono delle lucette che io ho acquistato tempo fa, diciamo quando avevo appena cominciato, e mi piacciono ancora parecchio perché sono praticamente sono dei pugnali laser, cioè non è una spada laser ma è un pugnale laser, sono un pochino più piccole, abbiamo la possibilità di impostare il colore che vogliamo, quindi in questo caso è un azzurrino ma io potrei mettergli qualsiasi colore dello spettro RGB più o meno perché poi se scarto soltanto di due punti non è che cambi tantissimo, quindi non ha proprio tutti i colori, non è precisissima, però ti permette comunque di decidere se vuoi un azzurro, se vuoi un turchese, se vuoi un viola, se vuoi un verde, da questa luce la tiri tranquillamente fuori. Hanno una batteria che alla potenza massima, ho potuto sperimentare, dura tra i 40 minuti e l'oretta, quindi comunque è una batteria che dura abbastanza. Hanno un'emissione luminosa assolutamente decorosa perché ci fai sia foto sia video in tutta tranquillità. La cosa che mi piace è che hanno la vite su tutti e due i lati, quindi si può avvitare su uno stativo sia sopra che sotto e si possono anche concatenare, cioè io posso avvitarne una e poi mettergliene un'altra avvitata sopra per farne due, tre o quante ne voglio io. Sono controllabili via remoto, quindi io posso scaricarmi l'app e se ne ho più di una posso controllarle tutte via cellulare, il che è carino, io non lo faccio perché io le imposto e poi le lascio lì, però si può fare. Sono calamitate, quindi si possono attaccare a una superficie di metallo. Passando a un'altra luce che vi faccio vedere, questa qui è la Lume Cube che ho vinto tempo fa a un contest di Luminar AI, uno dei primi contest che avevano fatto io avevo partecipato e avevo vinto e quindi questo qui era il, se ricordo bene, il terzo premio, era il terzo classificato, una roba del genere. È una lucetta che ha le stesse caratteristiche della Godox soltanto che invece di essere a forma di pugnale laser è un pannellino. Qui sotto c'è la sua vite con il passo standard e quindi questa si può attaccare sulla hotshoe di una fotocamera e usarla come luce per fare video. Io di solito non lo faccio perché la tengo a mano, la tengo con l'altra mano per fare delle cose un pochettino più mirate. Questa qui, oltre ad avere tutte le stesse capacità della luce Godox, quindi RGB, si può impostare il colore che si vuole, la temperatura colore che si vuole e hanno anche entrambe dei programmi di pulsazioni varie, quindi si può simulare il caminetto, il fuoco che scoppietta, la sirena dell'ambulanza, hanno tutta una serie di opzioni preimpostate con cui si possono fare degli effetti di luce carini. La cosa pazzesca di questa luce è la durata, perché almeno a pannello quando tu la accendi ti dà una durata di due ore. Io non ho provato a tenerla accesa due ore per vedere se era vero, non mi interessa così tanto, però comunque ha una durata assolutamente superiore rispetto alla Godox, nonostante l'emissione luminosa sia equiparabile, sono praticamente potenti uguali. Però questa qui dura sicuramente di più, non dico che arrivi a due ore, però secondo me l'ora e mezza alla massima potenza te la tira e quindi è comunque abbastanza notevole. Altre cose che vi posso far vedere, beh questa qui è una lucina ornamentale che ho preso dalla Rua Merlin, non credo che vi possa interessare granché, però insomma queste grosso modo sono le luci che io vado a utilizzare normalmente nel mio lavoro. Poi mi capita alle volte quando mi recco da certi clienti che abbiano loro un sistema di illuminazione, per esempio un servizio fotografico che ho realizzato, ormai credo che fosse il 2021, insomma era un po' di anni fa, per un'azienda che realizzava delle valvole, delle parti meccaniche molto complesse, loro avevano lì un set già montato con delle luci Elinchrom, con già delle tendine, con un panno bianco già sistemato, quindi avevano tutto a posto. Io ho solo portato le luci mie perché le loro erano molto vecchie, avevano una colorazione diversa, una più gialla, una meno gialla, quindi non ho voluto usare le loro, però c'era già tutto lì a disposizione volendo. Un'altra cosa che mi è capitata invece presso il cliente 4WD Italia, mi è capitato di trovare un set di illuminazione meraviglioso già pronto con anche un assistente, cosa che non mi aspettavo. Quindi questo è un cliente che si occupa di auto e lì ho trovato delle luci led con già il diffusore che loro utilizzano abitualmente per fare i loro lavori sui motori, quindi sulle automobili che gli arrivano, e hanno questo set di illuminazione che gli illumina il lavoro, gli illumina l'area di lavoro, quindi mentre stanno lavorando hanno queste led potentissime che gli illuminano quello che stanno facendo e le abbiamo utilizzate per realizzare delle riprese ed è stato un set fantastico perché già l'officina non era buia, in più con l'aggiunta di queste luci che sono credo artigianali, io penso se le siano fatte loro proprio, con l'aggiunta di queste luci avevamo un'illuminazione pazzesca, bellissima, diffusa sul viso e comunque potente, abbastanza da illuminare tutto quanto il capanno e niente, in questi casi si lavora molto ma molto bene. A questo punto amici vi chiedo, fatemi sapere quali sono le luci che voi avete utilizzato maggiormente nell'arco dell'anno 2023, potrebbe essere la luce naturale di cui non ho fatto menzione ma quella la uso spesso anch'io, fatemelo sapere in un commento, vi ricordo di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati, è stato un piacere passare un po' del mio tempo con voi e io vi do come sempre appuntamento al prossimo video.